Iniziando a lavorare nel cinema, perché comunque avevo bisogno di lavorare, perché i miei genitori mi dicevano che ero un perdigiorno, che non portavo niente, che ero un nulla facente, che la scuola era stata comunque un mezzo fallimento, l'università non se ne parlava, ho fatto il vigile del fuoco, ho visto tante scene di orrore, macchine contorte con persone dentro, alcune ancora vive, le aprivamo con le motoseghe o con delle tronchesi enormi, quindi questo anche forse mi ha dato anche un distacco, perché ormai per noi era fare un lavoro e quindi vedere a volte proprio la carne con i vetri infilati nel corpo, con le lamiere, alcuni morti, mozzati, Dopo un po', dopo le prime due volte che ho avuto lo shock, non ci, non mi colpiva più, diciamo, c'era una sorta di raffreddamento, come se viene una specie di anticorpo dell'orrore, qualcosa che mi teneva fuori, come dire, no, sto vedendo o una finzione, o questo che c'è non sono io, però non mi dava più nessuna emozione. Lei non ha paura della morte? Non lo so, non ci penso a dire la verità, forse ho più paura di vivere. Che cosa si aspetta dalla vita, Miriam? Nulla di speciale, quello che ho è già abbastanza. Sbaglia, bisogna chiedere tutto la vita mia cara per avere una piccola cosa, altrimenti non si ottiene niente.